Il crollo è successo in questa cittadina del sud-est barese, il crollo sarebbe avvenuto per una fuga di gas. Questo dicono i pompieri, i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto. Ecco qui le immagini di TGNORBA24 che ci mostrano la devastazione in questa strada di Conversano, sul posto le forze di polizia, il personale sanitario del 118, perché non si sa ancora, è avvenuto, solamente pochi minuti fa, se ci sono persone, se ci siano persone sotto le macerie. Conversano, ripeto, è in provincia di Bari, siamo in Puglia, un comune di circa 25 mila abitanti, a 30 chilometri a sud di Bari, sui primissimi rilievi della Murgia. Ecco qui appunto le immagini che arrivano da Conversano, dove ricordo sono cadute due vecchie palazzine, sono proprio crollate qualche minuto fa nel centro storico di questo paese Conversano, che è una cittadina del sud-est del Barese, sono subito intervenuti polizia, carabinieri, ma in particolare i vigili del fuoco, i tecnici dei vigili del fuoco, che hanno da subito affermato e accertato che molto probabilmente si è trattato di una fuga di gas. Continuiamo a vedere queste immagini proprio riprese sul luogo del crollo delle due palazzine nel Barese, vedete molto probabilmente accade sullo sfondo di queste immagini, con la gente che si avvicina, si accalca proprio per tentare di capire quel che è avvenuto, lo si saprà pochi minuti più tardi, pochi minuti più tardi appunto si saprà dopo il boato e il tonfo che queste due vecchie palazzine, palazzine storiche, antiche. Ecco qui, ecco il vicolo, ecco qui, il vicolo di Conversano, dove appunto queste due palazzine sono crollate, vedete il fumo e le macerie che si intravedono sul fondo, proprio in fondo al vicolo, vedete sono tipiche palazzine di quella zona della Puglia, palazzine basse, e il punto è che ancora ovviamente non si sa se sotto, se all'interno delle abitazioni ci fossero persone al momento del crollo e se dunque siano rimaste appunto sotto le macerie. Continuiamo a vedere le immagini che arrivano da questo vicolo di Conversano, vedete ci sono molto probabilmente i primi soccorritori che entrano nel vicolo e che osservano la scena, vediamo sullo sfondo, io vedo insieme a voi per la prima volta sullo sfondo appunto le macerie delle due palazzine che sono crollate, una fuga di gas molto probabilmente è la causa della deflagrazione che poi ha causato appunto il crollo, il cedimento delle due strutture antiche, io ricordo che è avvenuto a Conversano, siamo nella provincia di Bari, Conversano è a sud di Bari, proprio sulla Murgia, vediamo ancora il fermo immagine del vicolo con le primissime persone che entrano all'interno del vicolo di Conversano e che...